Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books Io sono Tiffany e oggi dobbiamo parlare di King of Scars di Leigh Bardugo perché come sapete, dopo la fine di Crooked Kingdom c'è solo della sofferenza per chi legge Six of Crows e non ha null'altro da leggere quindi immaginatevi attendere due anni e poi finalmente vedersi arrivare King of Scars e sono molto contenta, finalmente, finalmente Leigh Bardugo ha pubblicato questo libro Prima di iniziare il video però mi sa che è doverosa una super premessa ovvero che anche se il titolo è No Spoilers, No Funerals come ci insegna Game of Thrones invece The Night is Full of Spoilers e qua ce ne saranno tantissimi perché sarà un video super spoiler perché io da un lato ho veramente bisogno di razionalizzare quello che ho appena letto ho bisogno di... non lo so sarà molto confusa tra l'altro questa recensione ma ne dobbiamo parlare perché io cerco sempre di essere una persona anche molto onesta intellettualmente quindi penso che su questo libro bisogna... cioè c'è da fare un po' un discorso quindi se non avete letto La Griscia se non avete letto Six of Crows se non avete letto Crooked Kingdom se non avete letto King of Scars abbandonate questo video so che è la cosa meno sensata da dire per uno youtuber ma fondamentalmente vi rovinerei tutto e non è giusto guardatelo se avete letto guardatelo solo se volete come me discutere di questo titolo premetto però prima che abbandonate il video che a me il libro è piaciuto però ci sono anche tante cose da discutere io quindi non trovo giusto non criticare le cose che a me piacciono anzi sono forse le cose più interessanti da criticare detto questo parliamo di King of Scars allora a me generalmente come libro è piaciuto molto lo vado ad inserire tra Ruin and Rising nella mia classifica e Crooked Kingdom ok? tra quella cosa lì anche se devo dire che l'ho visto molto meno lucido di Ruin and Rising ad esempio che so che è un libro che tantissimi hanno odiato e tantissimi forse non hanno capito però per me il senso proprio di Ruin and Rising e il messaggio che porta di per sé anche alla conclusione della Grisha e anche l'evoluzione di alcune dinamiche la maturità anche stilistica che proprio è molto superiore nettamente superiore anche sulla Shadow and Bone nel giro di tre libri per me è stato molto interessante io lo trovo un libro molto bello una conclusione meravigliosa perché in fondo il senso della Grisha non è quello di essere per forza straordinari o a risultare per forza qualcuno che non si è ma a trovare la propria strada anche se non è quella dove tutti ti spingono anche se non è quella dove tutti vorrebbero che tu sia perché non la senti come tua come vicino a te e l'ho trovata una conclusione in realtà molto coraggiosa molto fuori dalle righe e che mi è piaciuta perché in fondo diciamo che la nostra eroina Alina non poteva andare in una direzione diversa da quella dove è andata l'ho trovata molto coerente e molto interessante davvero per una volta anche questo non sentirsi addosso il dovere di dover per forza essere straordinari essere qualcuno che non si è soprattutto per una persona che non aveva mai sperimentato questo stile di vita e queste cose insomma al di là di tutto finisce Ruin and Rising e noi abbandoniamo tanti dei nostri eroi soprattutto secondo me poi nella Grisha i personaggi a cui io ero più legata sono Nicolai e Zoya ma anche Genia ovviamente trovo che siano tre personaggi tra i P-side characters di lei Bardugo sono davvero sempre molto forti e soprattutto nella Grisha dove purtroppo hai una protagonista che almeno per me era problematica io l'avrei veramente fatta fuori alla pagina 2 invece devo dire che alla fine un po' io Alina l'ho imparata ad apprezzare proprio alla fine perché l'ho capita anche se ho fatto molta fatica ad esempio ad empatizzare con lei proprio un personaggio che è difficilmente apprezzabile però quindi cosa emerge nella Grisha emergono personaggi come Nicolai che io fin dall'inizio fin dal primo incontro con Nicolai sono sempre rimasta in due sensazioni molto combattute tra di loro ovvero la voglia di limonarlo fino a farmi sanguinare le labbra e la voglia di spaccargli la testa con un pezzo di legno perché è chiaramente molto fastidiosa è chiaramente estremamente arrogante e sicura di sé però sono sempre quelle cose che un po' ti piacciono un po' le odi o almeno io per me nel senso sono certa che se fosse esistito nella vita reale avrei sicuramente avuto questa situazione molto conflittuale nei suoi confronti e poi Zoya che Zoya per me è un personaggio super interessante super giustificato nel suo essere questo tipo di personaggio molto rabbioso molto determinato che tutti temono da un lato perché spaventa un po' il prossimo è una cosa che a me è piaciuta molto e che ho apprezzato molto sempre Zoya ha proprio grandi cuori e Zoya parte quasi da anti-eroina perché chiaramente è vittima del Darkling e poi dopo compie un percorso anche proprio di autodeterminazione e anche di liberazione da un mostro che le aveva annidiato la testa e a causa di tante sensazioni insomma vabbè ma comunque e poi Geniac Geniac cioè come fai a non volere bene è proprio le vuoi un bene dell'anima quando la conosci a Geniac tutti sono dei personaggi che hanno vissuto delle sensazioni molto conflittuali tra di loro all'interno del libro che hanno compiuto grossissimi sacrifici che hanno vissuto grandissimi traumi su questa cosa poi ci arriviamo un po' dopo detto ciò King of Scars si apre proprio diciamo in un periodo che è successivo invece a Crooked Kingdom dove rincontriamo i nostri personaggi qualche anno dopo non a grande distanza e dove rincontriamo Nicolai che adesso è re e che deve gestire tutto il regno di Ravka che ha gravissimi problemi sia economici che politici che di stabilità interna viene da una guerra civile e poi insieme a lui c'è tutto quello che è diventata la sua corte il suo circolo ristretto dove ovviamente ci sono tutti i personaggi che noi avevamo incontrato e poi i quali ci eravamo anche tanto affezionati nella Grisha infatti ci sono oltre a Zoya e a Genia ci sono David o David in realtà David penso perché è russo ci sono Tolia ci sono Tamar e tanti altri insomma e quindi insomma seguiamo quello che è il nuovo corso della sua vita politica che però è turbato da un grande segreto che è Nicolai ovvero quello di ospitare un demone che a un certo punto che è una parte ovviamente del cioè che è una sorta di parte di Volcra dentro di sé che a un certo punto di notte senza che lui lo possa controllare si libera e ovviamente gli fa perdere la ragione non è più Nicolai eccetera e quindi la corte oltre ad avere dei grossissimi problemi politici sociali economici si trova anche a dover affrontare in segreto chiaramente la vicenda di Nicolai che lo preoccupa lo terrorizza e lo fa sentire anche molto sotto tono dall'altro lato noi seguiamo anche le vicende personali soprattutto di Zoia perché Zoia rappresenta un po' il trauma all'interno della vicenda quello vissuto in prima persona con grandi perdite con anche proprio un conflitto dentro se stessa la vergogna tante emozioni diverse insomma che però diciamo è anche un personaggio chiave nella corte dei Grisha e insieme a lei ci sono anche un po' gli altri personaggi in maniera molto inferiore devo dire perché ad esempio io avrei voluto vedere molto più Genia ad esempio comunque un Genia e Zoia che riuscivano ad avere lo stesso spazio perché fondamentalmente avrebbero potuto esprimere la stessa emozione in due però versioni diverse o comunque elaborare il trauma in due modi abbastanza diversi che sarebbero stati forse complementari però comunque e poi dall'altro lato invece dall'altro punto di vista della storia seguiamo Nina Nina chiaramente è in lutto Nina chiaramente è ancora in una fase dove non ha superato la morte di Mattias sono dei capitoli che sono strazianti davvero cioè i capitoli di Nina i primi otto capitoli di Nina ti vogliono prenderlo il cuore e farlo carpessare da una mandria di cavalli impazziti quindi insomma capiamo e trovo sempre molto giusto queste sue riflessioni sulla difficoltà nel lasciare andare qualcuno che per lei comunque è stato molto importante perché anche lei ha subito un forte trauma e nel momento in cui l'aveva superato le viene a mancare la persona forse che più di tutti l'aveva sostenuta nel superamento del trauma quindi dopo aver dovuto assumere lo Yurda Parham diventa una sorta di dipendenza per lei e quindi insomma un processo molto doloroso molto complesso che avviene in Six of Crows and in Crooked Kingdom e diciamo che in questa fase però Nina viene spedita dopo essere rimasta un po' di tempo a Ravka a Dossalta a fondamentalmente vivere il lutto e la parte più dolorosa più greve del lutto viene spedita e mandata in missione nel territorio dei Fierda un po' per tenerla occupata un po' per farla staccare e darle un po' una spinta verso ritrovare anche se stessa e dare un nuovo senso alla propria vita e non solo rimanere attaccata al dolore e alla perdita che aveva subito insieme ad Adric e Leoni la loro missione chiaramente è quella di recuperare i Grish nascosti a Fierda che rischiano di essere perseguiti e poi uccisi e mandarle a Ravka per potergli dare una nuova possibilità oppure mandarli a Novi Zem dipende sempre dalle cose comunque insomma fa quello che fondamentalmente faceva anche prima di Six of Crows o in Six of Crows e qui la troviamo in una veste chiaramente che più ci ricorda il suo personaggio un personaggio che è chiaramente molto nobile in questa sua missione è chiaramente conoscenza dei propri limiti e che chiaramente è spaventato in questo momento ma che trova nella sua missione nella sua missione di vita poi in generale più che nella missione stessa proprio un modo per riscattarsi un modo per trovare un senso in quello che sta facendo e generalmente secondo me questo corso che prende Nina è molto interessante molto giusto perché è molto vicino al suo personaggio in generale Nina io l'ho trovata molto Nina e questa cosa mi è piaciuta tantissimo non è un personaggio che si distacca assolutamente da quello che è il suo personaggio come l'abbiamo conosciuta e Nina veramente dei capitoli che sono strazianti da un lato soprattutto nella prima parte perché chiaramente è quella dove sta elaborando ancora il lutto per Matthias e poi dopo la troviamo invece in maniera un po' più decisa un po' più convinta dove cita tantissimo anche Six of Crows perché cita Katz che le ha insegnato delle cose e lei ha recepito alcune alcuni insegnamenti e questa cosa mi è piaciuta molto perché ha un modo anche per rielaborare la situazione di Six of Crows il fatto di dire che quando si lancia in missione c'è sempre il No Mourners che si è fan service per l'amore del cielo lo so anche io ma l'ho trovata sempre dei modi molto intelligenti nel buttarsi nella storia riprendendo qualcosa che noi avevamo imparato da Six of Crows provare a fare una missione citando anche tutte le regole di vita di Six of Crows anche richiamare la mancanza di Inej che è davvero una persona molto rassicurante per Nina sono grandi amiche lei avrebbe bisogno di una figura come Inej al suo fianco va bene comunque invece tornando a Nicolai Zoi eccetera scopriamo soprattutto questioni politiche che sono state secondo me la parte più interessante almeno dal mio punto di vista perché io amo questioni politiche potete farmi un libro vuoto dove si parla solo di trame sotto trame politiche che io sarò contenta ed è per questo probabilmente unito anche soprattutto all'introspezione all'elaborazione del trauma che è fondamentalmente il tema fondamentale di questo libro perché si chiama King of Scars e King of Scars parla del superamento del trauma dell'elaborazione del trauma e anche nel capire come sopravvivere al proprio passato al proprio momento più duro che è un po' il tema anche di Six of Crows ma in maniera abbastanza diversa perché in Six of Crows il trauma che elaboravano tutti i personaggi quindi può sembrare per me apparentemente una ripetizione in realtà non lo è perché in Six of Crows il trauma era qualcosa che veniva da più lontano dall'infanzia che veniva dalla famiglia che veniva anche da un momento di crescita ecco o nel caso magari di Mattias da un'impostazione della propria cultura che lo portava ad odiare Grisha e non capire questa cosa qua eccetera eccetera oppure cose dette non dette insomma era sempre qualcosa legato un po' alla famiglia e un po' anche alla propria esistenza ecco in King of Scars invece il trauma è ben diverso il trauma deriva da soprattutto la guerra civile quindi deriva dal Darkling per tutti i personaggi tranne che per Nina perché il suo l'ho detto prima il suo trauma è elaborare il lutto per Mattias e soprattutto poi non solo c'è sempre comunque qualcosa di fondo e per me non so sarà che è un tema che proprio mi smuove tantissime cose il fatto del trauma il fatto dell'elaborazione del lutto dell'introspezione a me è un aspetto che piace molto e quando lo vedo raccontato mi tiene incollata alle pagine questa è una cosa che a me proprio ha cioè non è non è mai esplicito sempre intervallato da tante cose però fondamentalmente io l'ho apprezzato tantissimo mi è piaciuto proprio tantissimo questo aspetto penso sia il motivo per il quale per me il 70% del libro all'inizio è stato folgorante per me è stato super interessante è stato molto bello anche proprio addentrarmi e capire sia da un lato come stanno vivendo il post Darkling perché anche se secondo me il lettore non ha forse così ben chiaro le conseguenze di quella che è stata la guerra civile cioè la guerra che si è combattuta contro il Darkling queste persone sono tutte reduci da traumi molto gravi dipendenti da questo le perdite le afflizioni delle ferite fisiche dei traumi proprio dal punto di vista personale del senso di colpa ma anche nel caso di Nicolai qualcosa che lo invalida qualcosa che mette in crisi proprio le sue qualità migliori perché non gli permette di essere completamente libero di poter governare Rabka ma essere esso stesso una minaccia probabilmente per il suo popolo e questo per me ripeto è molto interessante quindi per me è stato bellissimo da leggere per me poi ripeto Labardugo ha uno stile che è imbattibile perché riesce a alternare nel giro di pochissime pagine e dei momenti che ti fanno veramente piangere ti fanno versare tutte le tue lacrime perché quando leggi di Nina e di cosa come stai elaborando o non elaborando il lutto per Mattia sei veramente straziante per me veramente qualcosa che per me è stato significativo dall'altro invece ci sono momenti esilaranti ci sono momenti che fanno veramente tantissimo ridere sempre sostenuti da uno stile che per me è impeccabile perché se c'è una cosa che è una grande garanzia che Lei Bardugo sa scrivere meglio di chiunque appunto su questo proprio non c'è alcun dubbio non sorvola neanche un minimo dubbio infatti per me lei conferma nuovamente in questo libro di avere uno stile eccellente che non può quello non lo può perdere ha uno stile che è molto concreto che è veramente molto teatrale da un lato ma veramente impeccabile chiaramente non so per me Lei Bardugo veramente non si batte non c'è proprio ombra di dubbio penso che questo se l'avesse scritto chiunque altro sarebbe stato il libro della vita di chiunque di qualsiasi altro autore poi ci torniamo su questo punto riguardo invece alla questione politica che vi accennavo prima per me è stata una parte super interessante io amo 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 proprio in generale quei libri dove la scacchiera politica dove gli intrighi i macchinamenti eccetera sono proprio la base della storia cioè per me potete fare un libro vuoto veramente e parlarmi solo di macchinazione politica che io sono contenta perché è esattamente quello che mi aspettavo e quello che volevo trovare in questo libro mi è piaciuto tanto questo aspetto perché comunque c'è una complessità della situazione che viene molto ribaltata e molto inasprita per alcuni aspetti dopo la guerra civile che noi dovevamo per forza conoscere e quindi tutte queste cosine a me sono piaciute proprio tantissimo non lo so allora per me fondamentalmente è un libro che mi è piaciuto tanto proprio affronta alcune cose ho sottolineato tantissimo affronta alcune cose in maniera davvero molto delicata cerca sempre di dare alla sua narrazione un valore aggiuntivo cioè come se non fosse solo una storia fine a se stessa ma che volesse anche dare molta eco ad alcune dinamiche far vedere mostrare come alcune dinamiche si possono ripercuotere proprio quotidianamente o nella vita di ognuno di noi o come certe cose possano essere uno strumento che ci è stato dato anche se noi non lo vediamo per poter diventare persone diverse poter cambiare diventare persone migliori oppure riuscire a portarsi dietro queste esperienze per impedire che succedano di nuovo ecco e non vorrei che questa parte risultasse molto inferiore rispetto a quello che dirò dopo perché secondo me davvero King of Scars è un buonissimo libro è un libro che a me è piaciuto tanto però mi sono chiesta visto che l'ho finito ieri sera adesso non so quando vedrete questa recensione però l'ho finito veramente ieri sera è un libro che da un lato io ho apprezzato tantissimo mi è piaciuto proprio tanto per me per alcuni aspetti proprio non cioè lo salvo totalmente dall'altro lato però mi sono chiesta è un libro che però ho amato? no non è un libro che ho amato è un libro che mi è piaciuto tanto che è diverso un libro che ho amato è un'altra cosa ecco ma perché soprattutto verso la fine soprattutto proprio perché a me lo sono sottolineato perché continuavo a dire Madonna perché sto facendo così fatica tra il 74-75% e l'86% del libro 84% del libro proprio l'86% succede uno delle è diventato un po' noioso so che tanti da quello che ho visto in giro l'hanno trovato noioso ben prima per me invece assolutamente no perché fino a quel momento aveva degli elementi molto interessanti ma soprattutto iniziano a cadere cose soprattutto legate agli dei per Nicolai l'introduzione del personaggio di Isaac la dinamica di Nina che hanno molto molto rallentato la storia in quel punto nel quale invece noi avevamo iniziato un po' a capire che tante cose stavano cioè insomma bollendo in pentole quindi forse era necessario dare un po' un'accelerata invece perché infatti secondo me fino a quel punto sì è un libro un po' preparatorio infatti cioè si percepisce che ti sta creando tanti riquadri creando un'introspezione di tanti personaggi perché è un po' necessaria secondo me ma fino a quel punto non viene percepito così tanto almeno a mio parere per come l'ho letto io fate conto che ho letto in una giornata che poi ci ho lavorato anche quindi parliamo di mattina prestissimo e sera tardi quasi il 65% quindi vuol dire che è un libro che mi ha veramente catturata mi ha presa io non leggo in maniera così veloce e sono di solito abbastanza inclina a farmi annoiare se un libro non mi prende invece l'ho letto proprio tutto d'un fiato la parte successiva invece devo dire che è stata molto più faticosa per me da leggere soprattutto per arrivare al finale perché mi sembrava sempre che ci fosse un qualcosa che si stava preparando per ma continuava a essere rimandato e non arrivava mai che sarebbe stato un po' necessario in quel punto ecco il problema infatti poi dopo da lì mi ha fatto molto più ragionare sulla struttura della trama e sulla gestione della trama che sinceramente fino a quel punto io non avevo trovato difficoltà non avevo trovato sbagliato è vero che è un libro dove non ci sono tantissimi avvenimenti non è Shadow and Bone ma soprattutto non è Six of Crows Six of Crows riusciva ad alternare alcune diciamo introspezioni sul trauma con un sacco di azione a ributtare alcune cose che ci raccontavano i personaggi sull'azione sugli avvenimenti avevi un cast molto più ampio cioè in realtà non era più ampio ma seguivi tutto il cast la struttura era molto diversa la struttura di King of Scars invece è molto più simile a quella della Grisha da un lato però ha anche degli elementi più simili a Six of Crows è proprio un po' una sorta di via di mezzo qua abbiamo in teoria tre punti di vista anche se effettivamente quelli di Nicolai sono sempre molto più corali rispetto a essere solo i punti di vista di Nicolai che è un po' simile a quello che succedeva in Six of Crows perché magari il punto di vista era quello di Katz però poi seguiva un po' tutti in questo caso secondo me è molto più forte questa cosa nel senso che c'è Nicolai magari il punto di vista è quello della storia di Nicolai ma fondamentalmente ti racconta un po' tutti quelli che gli stanno attorno tanto che secondo me anche quando quei pochi punti di vista di Zoya sono fondamentalmente un po' più dedicati a lei chiaramente però diciamo anche nei punti di vista di Nicolai c'è molto Zoya c'è tantissima Zoya che a me è piaciuto perché io amo Zoya e sono felicissima che le abbia dato così spazio però diciamo che Zoya ad esempio è un po' un personaggio che dentro il libro esprime continuamente la stessa sensazione di rabbia no? e mentre Nicolai diciamo compie un po' un'evoluzione secondo me Zoya è incazzata e ci sta a tutte le ragioni del mondo per essere incazzata ma lo era anche prima cioè lo era anche nella Grisha quindi noi diciamo capiamo questa sua emozione capiamo il suo essere fortemente arrabbiata delusa di faticare a superare questa rabbia che è verso certi soggetti nei confronti di quello che le è successo e per quello che è successo è alle persone che ha amato e che ama diciamo che Zoya compie secondo me la minore evoluzione all'interno del libro e quindi anche rileggere continuamente un punto di vista che si fonda sulla rabbia e io che comprendo benissimo la rabbia e l'ho vissuta sperimentata e tuttora sono una persona che fatica a tradurre la rabbia in altri sentimenti devo dire che avrei voluto vedere anche altri aspetti dell'evoluzione di Zoya cosa che secondo me Nicolai compie e che secondo me sarebbe stato furbissimo accostare alla rabbia di Zoya dei sentimenti un punto di vista di genia perché genia e Zoya hanno vissuto molto vicino la stessa emozione la stessa storia perché entrambe sono state ingannate entrambe sono state usate sfruttate e poi sono state punite e chiaramente sono state massacrate dal Darkling e hanno vissuto altre cose diciamo che però hanno dei caratteri estremamente diversi e che avrebbero comunque potuto alternare la riflessione su quelle che sono le conseguenze di tutto quello che è la propria storia passata io personalmente avrei voluto vedere più genia alla fine della fiera vedere Zoya sempre rimogenare sulla rabbia che per me ripeto è un sentimento che capisco appieno ma moltissimo e che capisco anche perché ci sia sempre bisogno anche di rifletterci tanto perché la rabbia è un sentimento che non è difficilmente controllabile in alcune situazioni è qualcosa che proprio ti porti dentro per sempre però avrebbe potuto essere più ricco diciamo questa introspezione se oltre a Zoya avessimo visto più genia invece genia è molto marginale cosa che a me è dispiaciuto molto perché invece secondo me genia deserves everything insieme a Zoya ovviamente anche perché le voglio troppo bene insomma un po' questo mentre secondo me Nicolai già lo troviamo sottotono e cioè sottotono trovare sottotono Nicolai significa che invece che un carro armato c'hai un tank militarizzato cioè insomma trovare Nicolai sottotono vuol dire trovarlo un po' sottotono quello che per una persona normale è una giornata un po' col mal di pancia per lui è sempre cioè Nicolai è tutto Nicolai è sinceramente il personaggio migliore che ha creato Leibardugo nella trilogy cioè è chiaramente la cosa più interessante che dà più spunti in questo caso noi chiaramente lo troviamo meno brillante perché viviamo anche il suo conflitto un qualcosa che prima non esisteva o prima avevamo solo incontrato verso la fine di Ruined and Rising qui Nicolai vive qualcosa di molto complicato e nonostante cerchi di mascherarlo col suo carattere con le sue battute col suo modo di fare che comunque io ragazzi Nicolai ho riso tutto il tempo quando seguivo tutti i suoi capitoli tranne magari verso la fine e per me è risultato un buonissimo personaggio però Nicolai e Zoia che sono sempre quasi sempre insieme e c'è anche questa sorta di hangstra di loro che allora di solito non mi piace però io per loro non so ancora sono un po' attirata da questa dinamica del prima del nostro amore c'è l'impero io lo capisco e un po' mi piace però devo dire che non so se li vedrai insieme cioè sì ma non lo so vabbè ma comunque non è quello il punto Nicolai e Zoia che sono sempre insieme e che sono più che noti per questa loro caratteristica di non fidarsi mai di nessuno e di avere sempre un secondo fine per tutto ciò che fanno e piuttosto che credere a qualcuno che spunta dal nulla farebbero carte false in questo libro compiono due scelte che sono chiaramente stupide e lo si percepisce da subito e queste due scelte stupide portano ovviamente alle loro due difficoltà e quindi ai loro due plot twist e secondo me verso la fine si percepisce molto il fatto che il loro piano sia chiaramente fallimentare le loro scelte sono chiaramente sbagliate e per me era molto evidente cosa che invece in altri punti non lo era e devo dire che per me era veramente troppo prevedibile questa cosa perché come fanno Zoya e Nicolai soprattutto Nicolai perché Zoya non si fida però comunque non dice niente a fidarsi di Yuri Yuri è chiaramente un personaggio un po' problematico e che chiaramente nasconde qualcosa o vuole ottenere altro e lo si percepisce subito la cosa che mi ha fatto arrabbiare è che io ho questo tarlo questo dubbio della figura di Yuri da quando è comparso in scena e il finale e comunque la storia di Yuri all'interno del capitolo con gli idee mi ha solo confermato quello che già io sospettavo perché è un po' troppo naive il modo in cui Nicolai lo accetta e se lo porta dietro ma com'è possibile che Nicolai e Zoya che sono due persone che piuttosto che fidarsi nel momento in cui ti dicono qualcosa comunque già nascondono altro non hanno un secondo piano non hanno un piano di riserva o comunque non hanno già intuito le intenzioni per poi fregarlo all'ultimo minuto quando questo effettivamente calerà le braghe o giocherà le proprie carte pensando che siano vincenti è quello che ho trovato un po' contraddittorio in questa cosa cioè mi è sembrato molto naive il modo in cui arriva Yuri e ok va bene stessa cosa con gli dei gli dei ti presentano un piano e tu ti fidi subito non lo so mi è sembrato un po' sciocco da parte loro che non sono assolutamente due personaggi sciocchi soprattutto per tutto quello che accade invece nel resto del romanzo anche come ribaltano alcune situazioni invece con questi due personaggi che chiaramente li avrebbero fregati riguardo invece proprio alla gestione della trama che vi dicevo prima che secondo me a un certo punto si sente molto che la trama debba prepararti tanto perché tu effettivamente devi arrivare a un quadro politico e un quadro diciamo di introspezione del personaggio molto complesso rispetto a quello che non sai e a me è una cosa che piace però a un certo punto la trama proprio diventa quasi funzionale alla rivelazione finale sul finale parleremo proprio alla fine del video questo finale praticamente un po' annulla quella che è la costruzione della trama mettendo un po' in rilievo il fatto che non succeda molto dentro la storia che forse anche questa preparazione di tante cose tanti eventi tante non fosse lo scopo fondamentale della bardugo e io non riesco a capire se è una roba che effettivamente delude un po' me o è un problema proprio generale perché bisogna vedere a questo punto il problema fondamentale a questo punto è quindi abbiamo preparato tutte queste questioni siamo arrivati a questo finale che ne parliamo dopo però questo finale un po' scoperchia il fatto che la trama fino ad ora non sia stata così consistente quindi o è molto preparatorio e il prossimo libro sarà una bomba clamorosa oppure è molto preparatorio perché poche idee ma confuse sul finale parleremo dopo detto ciò invece secondo me lei bardugo senza bisogno di questo finale o senza bisogno di tutti quei trucchetti che un po' secondo me non sono riuscitissimi dentro king of scars aveva un sacco di materiale già pronto per costruire la storia perché ovviamente senza andare sul finale aveva intreghi politici proprio a manetta all'interno di ravka fuori ravka perché c'è una situazione completamente instabile che sembra quella di preparazione della seconda guerra mondiale ci sono i fierda che ce l'hanno con ravka ma ce l'hanno anche con gli shu e viceversa gli shu ce l'hanno con i fierda gli shu sembra che stiano tramando nell'ombra kerch è in conflitto con gli zemeni gli zemeni vogliono un'alleanza con ravka ma in cambio vogliono qualcosa kerch finanzia ravka ma senza i soldi di kerch ravka non sta in piedi e li minaccia cioè insomma la situazione politica è veramente interessante e complessa così complessa che lo trovo necessario in più ci sono i fierda che stanno lavorando nell'ombra gli shu che stanno facendo cose sempre sperimentano entrambe le popolazioni sperimentano sui grisha hanno lo jurdaparem lo jurdaparem è qualcosa di fondamentale era diciamo l'ascito di crooked kingdom che doveva essere distrutto che doveva essere insomma il grande obiettivo per evitare che succedessero veramente tutte le tragedie che possono succedere grazie allo jurdaparem c'è chi sperimenta sui grisha quindi anche questo è un grande tema poi c'è chiaramente sempre la questione della discendenza che diventa l'ennesimo tema in cui Nicolai è molto in conflitto Nicolai è sempre si sente sempre comunque in dovere di affermarsi e rivendicare la propria posizione come re di Ravka c'è di apparato l'apparato che è chiaramente qualcosa che va estirpato e bisogna gestire cioè diciamo che la bardugo ha messo tantissima carne al fuoco e non c'era bisogno di quel finale non c'era bisogno di quel finale se hai tutte queste cose a meno che quel finale non sia funzionale a gestire poi in futuro tutte queste questioni in un solo altro libro lo trovo difficile però lei è la dea lei può tutto quindi potrebbe darsi che fa un miracolo cioè non ne ho idea però effettivamente potrebbe davvero fare qualcosa di miracoloso anche se sinceramente avrei preferito che gestisse queste questioni perché sono molto più nuove rispetto al finale e sono più interessanti secondo me anche perché questo avrebbe molto distaccato la storia dalla griscia e soprattutto avrebbe dato l'occasione alla trama di essere la perfetta via di mezzo anche con Six of Crows dove ci sono tutte queste questioni di sottofondo e quindi non lo so un pochino da questo punto di vista avrei personalmente voluto vedere altro il problema è che non capisco mai soprattutto in questo caso se sono io che avrei voluto vedere altre quindi sono aspettative personali oppure sono invece delle cioè questo finale diciamo mette molto in luce le imperfezioni del libro ecco altra questione problematica secondo me a mio parere è la questione del sistema magico che so che a nessuno fregherà nulla e so che la maggior parte delle persone questo non lo troverà neanche un errore ma allora una cosa che io apprezzavo della Grisha in generale e in generale il sistema magico insomma di tutto il mondo Grisha è che ci fossero queste suddivisioni molto specifiche tra poteri che ognuna venisse messa in luce secondo i propri punti forti o punti deboli come se ogni potere avesse effettivamente la stessa importanza perché ognuna aveva un utilizzo molto interessante e anche quelli che pensavi no ma questo potrebbe essere più forte in realtà tutti avevano davvero una loro funzione e il loro punto forte che è una cosa che io apprezzo molto e questa suddivisione di potere mi è sembrato estremamente originale diciamo che l'ambientazione anche qui e il world building eccetera rimangono il punto più incredibile di ciò che è stato prodotto in questo mondo ma Zoya diventa l'avatar e quindi diventa so usare tutti i poteri questa cosa qui a me ha un po' fatto scendere la catena perché cioè non lo era neanche il darkling non non lo so questa cosa qua a me ha turbato molto perché apprezzavo il fatto che finalmente non ci fosse quella storia come ci hanno abituato tante altre dove tutti sanno fare tutto sono tutti troppo bravi no ognuno aveva le proprie capacità peculiari fino ad ora è stata molto vera questa cosa è stata estremamente vera questa cosa l'unica che cambia potere che lo vediamo in maniera clamorosa è Nina ma perché Nina è sotto l'effetto dello Yurda Pare e quindi viene trasformata profondamente quindi a me sto avatar mi ha un po' messo in crisi questa nozione un po' così mi sembra quasi come se avesse voluto per forza farci vedere che c'era quel qualcosa di più secondo me in questi personaggi non è necessario non è una scelta così necessaria perché questi personaggi spaccano il culo così come sono non hanno bisogno di essere super mega non plus ultra quelle robe lì le lasciamo alla masca e non sa scrivere la Bardugo che invece ti crea questi personaggi che trovano sia resilienza ma soprattutto trovano anche una grandissima forza nel riscatto in quelle che sono le abilità che loro hanno che gli vengono date senza bisogno di cercare qualcosa di ulteriore e questo a me è un po' dispiaciuto anche un'altra cosa che secondo me è gestita fino a un certo punto bene sono l'introduzione di questi nuovi personaggi perché soprattutto nella storia di Nina quindi Anna che è che le vogliamo dare un nuovo interesse amoroso perché un po' se lo merita Nina merita tutte le cose buone di questo mondo perché è un personaggio estremamente buono e di cuore e che fa tutto proprio perché viene trascinata dai suoi migliori sentimenti anche quando questa le fanno fare le cose pazze però Anna per me è stata molto indifferente è un personaggio che non ho molto cioè non mi ha coinvolta granché idem Isaac o Isaac ma in questo caso penso Isaac perché siamo in nord Europa Isaac sì è funzionale ed è strumentale ed è necessario anche per spiegare alcune dinamiche assolutamente però è un personaggio che deve sostituire Nicolai adesso io pensavo ma è chiaramente un piano fallimentare quello di far sostituire Nicolai come fai a sostituire Nicolai come fai è impossibile replicare anche solo in una percentuale minima la sua personalità è chiaramente un piano del cazzo perché Nicolai non è sostituibile anche da uno che gli assomiglia tanto ma non è la questione della somiglianza che Nicolai ha una personalità talmente straripante che tu quando lo vedi lo noti proprio a chilometri di distanza e quindi un po' questa cosa dei piani fallimentari è stato il mio problema fondamentale ancora più di tutte queste cosine che vi ho detto perché infatti questa cosa di Isaac che viene introdotto è ok poverino è costruito bene ci sta bene abbiamo una buona anche introspezione del personaggio ne capiamo le difficoltà capiamo anche cose però si vedeva da chilometri che sarebbe finito così si vedeva da chilometri che il piano per metterlo lì era una cazzata perché non è possibile sostituire Nicolai ma neanche con un cioè proprio era fallimentare avrebbero dovuto fare ben altro detto questo invece anche gli altri personaggi sono chiaramente introdotti un po' così cioè anche Yuri si vedeva da chilometri che avrebbe fatto qualcosa è chiaro e questa cosa dei piani fallimentari per me è un po' il problema del punto finale cioè già il piano di Nina è di per sé problematico perché è chiaro che è una corsa al suicidio e poi si risolve comunque in una maniera che a me non è dispiaciuta però comunque mi faceva perdere molto interesse nella storia di Nina perché lo trovavo così distaccato poi da quello che stava succedendo dall'altra parte che è faticato proprio a capire la coesione di queste due trame cosa che invece in Six of Thrones era fondamentale seguivi tantissimi punti di vista ma perché tutti alla fine avevano un grande impatto sulla storia principale in questo caso non è così evidente forse sarà evidente nel secondo libro però sembra proprio una trama di per sé abbiamo messo Nina perché Nina le vogliamo un gran bene le volevamo dare una seconda opportunità ok però la vedo molto distaccata soprattutto vista la rivelazione finale ma ancora al finale ci arriviamo dopo riguardo invece ai piani fallimentari era chiaro che la questione degli dei sarebbe stata problematica era stata accettata con tanta facilità e con una sorta di frivolezza quasi superficialità che mi hanno un po' spiazzata ed era quindi ormai chiaro che ci sarebbe stato qualcosa sotto e infatti poi in sostanza arriviamo alla questione fondamentale il finale allora devo dire che prevedibile per me sì perché era molto prevedibile dopo aver inquadrato la figura di Yuri secondo me comunque io me lo sentivo me lo sentivo tantissimo questo finale perché torna il Darkling il Darkling secondo me in generale nella Grisha Trilogy è l'occasione più sprecata di Leigh Bardugo perché in Shadow and Bone non incontrava un personaggio che secondo me è geniale è brillante e non è così solo un vorrei ma non posso in realtà secondo me invece è ben delineato e mi piace che abbia poi mostrato invece il lato più meschino di lui nei libri successivi proprio a confermare come il suo fascino nel primo e il suo essere sempre ambiguo nel primo poi abbia avuto un riscontro nel suo essere cattivo meschino e totalmente egoista e c'è una cosa che ho apprezzato molto dall'altro però secondo me è un'occasione sprecata personaggio con un potenziale incredibile messo molto in secondo piano come se non avesse voluto dargli proprio l'esplosione massima nel suo essere cattivo nel suo essere ambiguo nel suo piano anche totale quindi è stato un vorrei ma non sono riuscito a fare secondo me davvero il Darkling è l'occasione più sprecata della Grisha ora è tornato ora è tornato con questa sorta di giro salto mortale dove dalle ceneri raccolte nella fold Elisaveta è riuscita a raccattare il corpo per ricostruire cioè un po' già quello mi aveva fatto scendere la catena però ok ciò vogliamo mettiamo il fatto di scegliere di riportare in vita il Darkling che secondo me non è così una sorpresa visto come stavano andando gli ultimi capitoli e comunque con quanto nella storia ritorna cosa che a me in realtà è piaciuta molto perché questo Darkling che ritorna in realtà era un elemento molto forte poteva essere molto forte perché tu devi superare un trauma che è l'essenza stessa del male praticamente e questa cosa mi era piaciuta però il fatto di averlo riportato in vita secondo me pone delle questioni abbastanza fondamentali allora da un lato secondo me la problematica fondamentale di questo riportare in vita il Darkling è il rischio fortissimo e molto prevedibile di invalidare il Ruined and Rising ovvero riportare in vita un personaggio che aveva concluso comunque il suo arco narrativo come malvagio battuto finalmente dopo enormi sacrifici cioè ricordiamoci che il Darkling ha distrutto una nazione ha distrutto la secondarmi e ucciso migliaia di Grisha milioni di Grisha quello che è possibile stimare e per me si era concluso lì cioè lui tutto quello che poteva fare di male l'aveva già fatto è intervenuta Alina con il suo grande sacrificio anche se poi alla fine non è morta perché lo sappiamo eccetera però era concluso lì e aveva portato con la sua fine la nascita di nuove consapevolezze nei propri personaggi Alina che capisce che ha fatto il sacrificio ma che fondamentalmente vuole dedicare la propria vita ad altro una consapevolezza nuova anche nell'unità e nella compattezza e nella necessità di avere una nazione unita contro queste forze anche e dall'altro lato anche un po' una rivalutazione della propria storia lo schierarsi dalla parte giusta riuscire a vedere le cose per come sono per tanti personaggi come Zoia ad esempio e riportarlo in vita per me rischia troppo di invalidare un intero libro se tu invalidi un libro secondo me è sempre una scelta sbagliata perché stai andando contro quella che è il tuo punto il tuo fine no? e poi mi viene un grande dubbio cioè cosa facciamo chi è che ha sconfitto il Darkling Alina? quindi nel prossimo libro noi riportiamo Alina nella storia insomma dopo ce li abbiamo tutti non manca più nessuno solo non si vedono i due locorni e questa cosa qua è ad altissimo rischio però devo dire che se riportasse anche Alina allora cosa ripetiamo di nuovo Ruin and Rising battaglia di nuovo finale non lo so questa cosa è ad altissimo rischio ed è la mia paura più grande è proprio il motivo per il quale sono un po' titubante su questo ritorno dall'altro lato però essendo una fangirl del Darkling potrebbe essere un punto di grandissima svolta con un grandissimo potenziale potrebbe essere l'occasione per ridare dignità all'errore più grande fatto da Lei Bardugo nella trilogia ovvero dare una vera motivazione un vero modo per potersi esprimere del Darkling dall'altro lato però potrebbe non essere la scelta più saggia quindi come vi dicevo prima però effettivamente è chiaro che per chi il Darkling invece lo aveva apprezzato tantissimo apre tante porte apre anche le porte a una possibilità secondo me che potrebbe dare grandissime soddisfazioni cioè Lei Bardugo nel prossimo libro con questo ritorno del Darkling può fare delle cazzate pazzesche come avere uno dei libri della vita personalmente parlando perché rincontrano alcune cose che io amo di questo suo personaggio non lo so quindi secondo me questo finale soprattutto dividerà tantissimo perché è problematico secondo me questo ritorno in linea generale perché è un po' come se avesse voluto dire non ho creato un altro cattivo abbastanza forte da poter insomma essere messo a confronto con il Darkling e quindi ce l'ho dovuto riportare oppure l'avevo ucciso come personaggio nel senso non ucciso alla fine di Ruin and Ride proprio come personaggio l'avevo molto smorzato errore mio ora gli ridò un po' di storia gli ridò spazio cosa che apprezza cioè bisogna capire se apprezzare io da un lato posso vederci anche gli atti molto positivi infatti tendenzialmente potrebbe essere una cosa molto interessante come potrebbe essere una stronzata quindi chiaramente il dubbio rimane secondo me questo ritorno dividerà tantissimo sarà una cosa che scandalizzerà tanti farà odiare tanto questo finale dall'altro invece scatenerà tutti i sogni e le speranze di chi invece il Darkling lo aveva amato quindi insomma secondo me stiamo giocando molto col fuoco quindi Lei Bardugo nel prossimo libro deve fare qualcosa di pazzesco cioè deve riuscirci cioè lo deve fare per me soprattutto quindi fondamentalmente alla fine di tutta questa cosa perché veramente sto sproloquiando da ore e forse ho dato molto spazio alla parte negativa perché secondo me sono sempre le cose più interessanti da far emergere detto ciò rimango della mia opinione che questo è un libro preparatorio sicuramente si percepisce molto verso la fine con il finale perché prima poteva aver comunque avuto un suo corso cioè a me è piaciuto molto in generale è un libro che a me è piaciuto quindi diciamo che se l'avesse scritto qualcun altro sarebbe stato il libro della vita di qualsiasi altro autore l'ha scritto lei Bardugo però che ci ha abituato a dei livelli che sono inarrivabili sono veramente molto alti per lo young adult fantasy ha creato six of crows che è la storia più solida nello young adult che esista più solida più interessante più immaginifica per alcune cose insomma ha fatto tante cose che secondo me chiunque altro non è riuscito a fare personalmente a me è piaciuto molto non lo sto dicendo perché lo devo dire o perché devo difendere le mie idee è stato un libro che ho letto con grande passione mi è piaciuto molto nonostante i difetti che sono molto evidenti secondo me c'è stata anche troppa fretta nel volerlo fare capisco anche perché e tante cose però forse c'è meno lucidità che quella che avevamo visto in six of crows che secondo me ha una lucidità molto ampia e brillante ecco è un grande rischio ecco questo finale è molto rischioso è a rischio ci buttiamo nel burrone come a rischio ti costruiamo una piramide dopo personalmente cioè ripeto se fosse stato il libro di qualcun altro avrebbe avuto cinque stelline ma è un libro della Bardugo e lei Bardugo ci ha abituato a dei picchi molto più alti quindi secondo me questo libro merita lo stesso voto che io ho dato a Ruin and Rising e non di più che per me è stato un quattro stelline quattro e mezzo to anche volendo perché alcune parti a me mi hanno veramente molto presa e molto commossa però dal lato ho rizzo davvero tanto secondo me dei pregi che sicuramente sono super apprezzabili lo stile di scrittura ripeto non si batte perché nessuno scrive meglio di Lei Bardugo almeno nel panorama young adult fantasy ovviamente qualche cosa che effettivamente non mi torna non mi torna e se fosse stato qualcun altro non avrei sicuramente avuto pietà nella narrazione il problema è che da un lato io soppeso sempre gli aspetti negativi con le cose che mi sono piaciute sono più le cose che mi sono piaciute rispetto a quelle che ho odiato sicuramente sì sicuramente ci vedo molti più aspetti positivi rispetto a quelli negativi è chiaro perché secondo me ci sono tanti elementi che vi faranno apprezzare moltissimo questo libro almeno io spero dall'altro ha preso una strada che è molto rischiosa questo anche riportare in vita un personaggio che io davvero non è una ci sono dinamiche che io non amo non apprezzo ecco forse è quello e che ripeto se l'avessero fatto altri autori probabilmente io li avrei massacrati il problema è che Lei Bardugo riesce comunque a rendere queste dinamiche molto interessanti a dargli anche una spinta comunque credibile e innovativa e in questo secondo me è un po' il suo pregio ecco diciamo che questo riportare in vita il Darkling è molto rischioso questo finale mette molto in discussione tutte le parti apprezzabili del libro soprattutto mi fa capire sempre meno il ruolo di Nina all'interno della storia che è una delle grandi problematiche e avrei preferito vedere meno ingenuità nelle scelte meno anche proprio atteggiamenti naive rispetto a certe dinamiche che non sono parte dello stile della Bardugo e dei suoi personaggi che anzi sono molto intelligenti proprio per quello e resi molto bene proprio perché non risultano stupidi sciocchi e poco autentici giusto per far funzionare la trama secondo me ha un po' di problemi ve li ho elencati in abbondanza rimane un libro secondo me estremamente piacevole molto interessante un po' nuovo anche rispetto ai canoni della Bardugo perché mescola diverse cose che ha portato avanti negli ultimi anni diciamo che è un libro che a me è piaciuto molto io quattro stelline gliele do e non lo dico perché la Bardugo perché sono affezionata a questo a quello a me dei personaggi fondamentalmente io posso essere affezionatissima a loro ma se fa delle stronzate non è una cosa che perdono secondo me è un libro buono piacevole è un libro che a me è piaciuto molto ma non è un libro che ho amato ecco non è un libro forse che è comprensibile in un solo libro però una cosa che dico sempre che non si può giudicare solo l'opera conclusa e finita che in realtà tipo ha molto senso come ragionamento nella trilogy e forse avrà senso anche in questa duologia in generale secondo me bisogna sempre però anche ragionare molto sul libro singolo su ciò che succede all'interno di un unico libro non sempre sulla lunga distanza perché non è così che si ragiona cioè se un libro è buono è buono anche preso singolarmente ecco diciamo che secondo me è un grosso azzardo io poi vorrei capire anche come verrà percepito cosa succederà in futuro detto ciò non vi spaventate leggetelo perché secondo me comunque merita tantissimo la lettura anche se bisogna fare una serie di riflessioni per me non è stata assolutamente una delusione ecco ci tenevo molto a dirvelo sono qua seduta perché sapevo che avrei dovuto mantenere la calma è il mio secondo video seduta quindi questo poteva spaventare tanti di voi detto ciò io spero che comunque tutto il mio delirio perché quello di oggi è un delirio perché non ho scritto niente spero sia chiaro ci devo ancora ponderare un po' di più devo dire che alcune cose secondo me sono molto apprezzabili altre sono un po' delle cadute degli scivoloni oppure sono opportunità bisogna sempre vedere come gestire alcune cose insomma devo ragionare molto di più diciamo in prospettiva su quali potrebbero essere gli sviluppi di determinate scelte e se queste scelte avranno un senso solo in futuro e quindi potrebbero aprire degli scenari molto interessanti oppure essere proprio delle scelte sbagliate ecco vedremo insomma io direi che se avete visto questo video che sarà eterno lunghissimo non so neanche cosa verrà fuori ovviamente se siete arrivati qua io spero che voi abbiate letto sia la trilogy che Six of Crows che King of Scars vorrei sapere tantissimo cosa ne pensate e niente io direi che per oggi è tutto perché non ho neanche più voce spero che comunque il video vi sia piaciuto e che abbiate capito qual è il mio pensiero e io direi che per oggi finiamo qua perché sono già andata avanti per ore e ci vediamo al prossimo video ciao ciao